Trasferirsi in Polonia nel 2023 ha ancora il suo sex appeal sotto il profilo fiscale oppure alla luce di una guerra tra Russia e Ucraina che non accenna a terminare? Ci sono delle cose da prendere in considerazione prima di fare questo passo. Te lo dico dopo la settimana. Ciao, sono Luca Taglialatela e tu sei sul canale di Tax Planning Internazionale. Se ancora non l'hai fatto ti invito a scrivere subscribe per rimanere aggiornato con le notifiche del canale e a lasciarmi un like che poi se vorrai mi leverai alla fine di questo meraviglioso video che riempirà la tua giornata di nuove aspettative. Oggi parliamo di Polonia, parliamo della situazione geopolitica della Polonia e cerchiamo di capire se sotto un profilo fiscale ha ancora il suo sex appeal e ancora così tanto attraente come dal mio modesto punto di vista lo è stato negli anni passati. Cominciamo col dipingere alcune caratteristiche, se vogliamo, geopolitiche della nazione polacca che tra l'altro appartiene all'Unione Europea da lontano 2024 quindi sono quasi 20 anni di appartenenza all'Unione Europea che ne fa un paese legittimamente e pienamente white list all'interno dell'Unione Europea prima ma anche dello scenario internazionale, quindi non c'è nessun tipo di problematica e neanche sotto un profilo diplomatico con il resto del mondo se non chiaramente, lo dicevamo in apertura, parzialmente con la Russia in questo momento storico. Altra cosa da considerare nel 2023, che fa parte dei fattori da prendere in considerazione quando si prende in considerazione appunto un trasferimento di residenza, una delocalizzazione o comunque di utilizzare una determinata giurisdizione per motivi e per finalità fiscali il governo attualmente in carica è particolarmente destrosso quindi la Polonia insieme all'Ungheria sono forse oggi le due giurisdizioni più di destra all'interno dell'Unione Europea, che quindi più si allontanano dalle direttive o che cercano diciamo di smarcare quelli che sono i paletti imposti dall'Unione Europea con vantaggi e svantaggi, dipende che cosa stai cercando in questo esatto momento storico in ogni caso sotto un profilo fiscale, non ti faccio aspettare la fine del video ma ti ribadisco, ti confermo che anche nel 2023 la Polonia ha mantenuto il suo sex appeal nella misura in cui la normativa è rimasta invariata anzi abbiamo visto intervenire altre agevolazioni sotto forma di crediti di imposta e sotto forma di agevolazioni finanziarie per le start-up ma sicuramente il fattore di maggior vantaggio rimane l'agevolazione per le microimprime